Devo dire che il Comune di Firenze ha dato un segnale molto forte, compatto, l'assessore Perra ha fatto un lavoro eccellente, Firenze è il principale azionista della centrale del latte e siamo contenti che la strategia indicata dal management dell'azienda sia fortemente condivisa. Abbiamo dato prova di unità e di determinazione, penso che i tempi saranno relativamente brevi anche perché dobbiamo dare una risposta ai produttori, dobbiamo dare una risposta ai nostri consumatori e dobbiamo dare una risposta ai lavoratori. Sono tre punti irrinunciabili del nostro progetto industriale perché questo progetto che è stato esaminato e votato in Consiglio Comunale è prima ancora che un progetto finanziario, un progetto industriale che dà ancora più valore al nostro territorio. Tempi brevi spada di mesi? Sì, compatibilmente ora anche con gli altri azionisti e poi con quelle che sono le operazioni che la legge prevede per arrivare a concludere questo accordo. Grazie.